Noi abbiamo dei grandi dubbi sulla vostra capacità e sul vostro coraggio, il coraggio di lottare per le idee che si hanno. Di idee ne avete parlato spesso, in questa manovra non troviamo le idee di cui avete parlato. E allora un po' parafrasando anche quello che dice Ezra Pound, quando un uomo non lotta per le proprie idee, o non valgono le idee o non vale l'uomo. E allora su questo, gli uomini e le donne di questo governo, crediamo che non credano nelle proprie idee, ma soprattutto non valgano loro e non siano in grado di difenderle, fino in fondo.